Roberto Rossi può tornare alla guida della Procura di Arezzo, almeno per il momento. Una disposizione infatti che segue la decisione del Consiglio di Stato che lo scorso 31 luglio aveva accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal PM Aretino, in attesa dell'udienza con la quale gli era stato sospeso l'incarico in programma per il prossimo gennaio. Il Consiglio Superiore della Magistratura adesso ha così sospeso il concorso, già indetto, per l'individuazione del suo successore. In sostanza, per ora, la non conferma del Consiglio Superiore della Magistratura perde efficacia e si torna alla situazione precedente ed il magistrato può tornare al suo posto. La mancata riconferma di Rossi alla guida della Procura Aretina risale al 24 ottobre 2019. Le imputazioni rivolte al PM dalla maggioranza del Consiglio Superiore della Magistratura riguardano le indagini sul crack di Banca Etruria e i relativi accertamenti sulla posizione di Pierluigi Boschi. Al procuratore, infatti, si imputava di aver compromesso, almeno sotto il profilo dell'immagine, il necessario requisito dell'indipendenza dai propri condizionamenti. A Rossi era stato infatti contestato di aver dato avvio agli approfondimenti, mentre ricopriva ancora l'incarico di consulente del Dipartimento Affari Legislativi di Palazzo Chigi durante il governo Renzi, dove tra i ministri in carica figurava anche Maria Elena Boschi, figlia dell'ex vicepresidente dell'Istituto di Credito Aretino.